Lavorare sul recupero della quota degli inoccupati che si attesta a 50.000 unità e la direzione indicata dalla Giunta regionale per migliorare i dati positivi relativi all'occupazione che secondo l'Istat ha superato la soglia delle 500.000 persone al lavoro in Abruzzo. Per raggiungere l'obiettivo già dal prossimo anno si guarda con fiducia al Masterplan che però fino ad oggi è solo un documento firmato e non ancora realtà. Potenzialmente dovrebbero arrivare 2 miliardi e mezzo di euro sul territorio ricordato da Alfonso anche per la creazione di una ZES, la zona economica speciale. Grandi aspettative poi ci sono anche nel settore edilizia, qui la ricostruzione nei 23 comuni del cratere sismico 2016-2017 potrebbe rappresentare uno stimolo importante per l'occupazione anche se il precedente Aquilano nel cantiere più grande d'Europa non ha avuto come spesso hanno rimarcato le associazioni di categoria abruzzesi gli effetti sperati sul rilancio del settore. Nelle 2018 proseguirà la partita sulle vertenze ultime in ordine di tempo, quella della Honeywell, la chiusura dello stabilimento a primavera rischia di assestare un duro colpo all'occupazione, quasi 500 addetti compreso l'indotto e all'economia dell'intero polo dell'automotive in Val di Sangro. D'Alfonso intanto esalta il risultato ottenuto dall'Abruzzo che dopo dieci anni è tornato ai livelli occupazionali pre-crisi con un ma molti dei contratti proposti delle aziende abruzzesi sono infatti precari anche su questo fronte occorrerà lavorare. Siamo soddisfatti, consapevoli che non sono finiti i problemi, che c'è molto lavoro da fare ma è fuori di dubbio che questo dato dei 512 mila occupati è un dato che premia e ci incoraggia ad andare avanti e ci dice che l'agenda va ulteriormente arricchita e resa ambiziosa. Io credo che tre sono le risorse per lo sviluppo e la crescita, una di queste è la risorsa finanziaria che noi abbiamo nella misura di 2 miliardi e mezzo di euro. La seconda risorsa è quella normativa che ci deve consentire semplificare fino all'azzeramento delle procedure che per esempio è previsto alla ZES che noi avremo una zona economica speciale per l'Abruzzo e per le imprese abruzzesi. La terza risorsa è le idee, la qualità delle idee delle imprese, la qualità delle idee dei nostri ragazzi, delle risorse umane. Noi dobbiamo lavorare su queste tre risorse coniugandole e noi ci dobbiamo assumere responsabilità.